Sta per iniziare Melog, cercherò di parlarvi della neve a Roma che in effetti sta scendendo veramente dal cielo, al di là delle artefazioni, vedete questo è il cielo ricoperto di neve, già ricoperto, da cui sta scendendo neve. Io sto cercando di farmi strada attraverso questa bianca colpe che tutto avvolge e tutto fa risuonare di assordante silenzio, sono nel balconcino di Radio 24, la neve mi segue ovunque, entriamo dentro per farvi vedere come siamo avvolti anche noi all'interno della radio della neve, la neve è penetrata anche dentro, questo è Giannino che sta parlando anche lui, vedete, avvolto dalla neve, adesso lo faccio vedere meglio, entriamo nello studio per darvi la prova che ormai la neve è penetrata in ogni interstizio, anche all'interno della radio, siamo nello studio di Giannino, anche questo avvolto dalla neve, vi faccio intravedere Giannino, anche lui sepolto dalla neve che sta trasmettendo, il professor Rocchetti sta trasmettendo anche lui, la neve avvolge tutto, Gloria Guerrera, se riusciamo a farla vedere, anche lei avvolta la neve, insomma oggi parleremo dell'emergenza neve a Roma.